Alla presenza delle autorità, delle varie rappresentanze e delle associazioni combattentistiche d'arma, nella giornata dedicata ai defunti si è rinnovata un po' ovunque la commemorazione dei caduti di tutte le guerre e nelle missioni internazionali di pace. A Campobasso gli eventi celebrativi e le azioni di meditazione si sono svolte al sacrario del castello Monforte attraverso un corteo, la deposizione di una corona d'alloro e la santa messa. Nell'occasione abbiamo ascoltato il colonnello Francesco Paolo di Anni, a capo del comando militare esercito Molise. Meditare sul valore grandioso che il sacrificio di tutte quelle persone rappresenta per noi oggi. Oggi in maniera particolare noi vogliamo ricordare i caduti di tutte le guerre e di tutte le operazioni internazionali a supporto della libertà degli individui e dei diritti civili. Ora è necessario specificare che il valore in sé sta nel fatto che costoro si sono sacrificati per noi e noi oggi dobbiamo ricordare loro proprio perché il loro sacrificio ha consentito e consente a noi oggi di svolgere una vita civile, libera, democratica così come giornalmente ci capita di viverla. E' ancora attuale il senso di appartenenza all'interno, tra i popoli naturalmente? Il senso di appartenenza ritengo che sia un valore intramontabile. Indipendentemente dal fatto che si svolgano guerre di tipo classico, visiano delle conflittualità come quelle che viviamo noi oggi, il valore di appartenenza va ricordato essere forse la linfa vitale per ciascun popolo. Noi dobbiamo rammentare che proprio il sacrificio di questi combattenti ci ha per esempio portato a conoscere l'unità nazionale così come ce l'abbiamo se ci riferiamo ai caduti della prima guerra. Così come l'assetto globale che derivò dalla seconda guerra mondiale, anche quello ci ha portato ad avere l'evoluzione che poi dapprima i nostri genitori e poi noi abbiamo potuto apprezzare in termini di vita democratica e libera. Negli ultimi tempi si è parlato molto del ritorno alla leva per i nostri giovani anche come elemento di crescita e con la sua opinione. Io posso dirle che dalla mia esperienza fin quando il servizio di leva è rimasto attuale, cioè si svolgeva nella prassi e io l'ho vissuto perché nei primi anni di servizio mi sono occupato di addestrare i soldati di leva senza dubbio ha avuto un grande valore. Uno dei tanti valori che ha avuto è stato quello di far conoscere meglio anche il territorio nazionale e le diverse forme di cultura che ciascuna delle regioni italiane esprime. Ecco in questo va letto il valore di quel servizio.